Pizzuti è di origini italiane, ma è cresciuto a Bruxelles dove ha frequentato la scuola europea. Dopo la maturità nel 1976 si iscrive all'Università Cattolica di Lovagno dove si laurea in sociologia nel 1980. I suoi primissimi corsi di teatro si svolgeranno alla scuola europea e già nel 1978 è notato da Micheli Neardi durante gli esami pubblici che si tengono ogni anno presso l'Accademia di Etterbick. In seguito frequenta il Conservatorio Reale d'Arte Drammatica di Bruxelles sotto la supervisione di Claude Etienne e Pierre Laroche. Nel 1981 riceve il suo primo riconoscimento ufficiale. Il primo premio al Conservatoire Royal d'Arte Drammatique de Bruxelles. Nel 1981 muove i suoi primi passi nel cinema recitando nel film di Chantal Ackermann, Tute Unenuit, 1. E nel 1982 si interessa la televisione con casting di Arturiofe. Ma la sua passione resterà sempre il teatro. Nel 1984 interpreta, sotto la direzione di Maurice Bejart, Cinq Nos Modernes, a Parigi. Negli anni che seguono recita in numerose opere teatrali e nel cortometraggio La Leccon de Piano. Nel 1989, nel 1994 presenta il suo primo spettacolo come regista, La Belle Eau Bois d'Orma, di Loran. Vielle Vincent Margan. Nel 2002 crea la sua prima opera teatrale, Netre. Grazie. Grazie.